Nome Chloe Huang Età 40 anni Di dove sei? Io sono di Corea del Sud Nome della start-up TXC2 Settore EdTech Spiega in poche parole di cosa si occupa la start-up Stiamo producendo una soluzione per cambiare come si studia usando un box intelligente nell'aula Questo box si cattura tutte le intellizioni che succedono durante le lezioni e produce lezioni digitali compatti per rendere lo studio più efficace, facile e omnipresente Cosa vi ha spinto a partecipare a Trentino Start-up Valley? E cosa vi aspettate? Adesso è inizio di nostro percorso e questo ci aiutera tanto per tante molti parti che dobbiamo ancora lavorare